eccoci al 31 luglio ed ecco un nuovo appuntamento con l'almanacco oroscopo san ignazio di loyola auguri compleanni nati oggi il allenatore di calcio ex calciatore antonio conte nato il 31 luglio 1969 un grande attore un bravo presentatore e imitatore ovvero neri marco re è nato il 31 luglio del 1966 amici dell'oroscopo ci siamo prima la forisma la tecnologia non tiene lontano l'uomo dai grandi problemi della natura ma lo costringe a studiarli più approfonditamente dall'ariete ai pesci l'oroscopo in questo 31 luglio ariete dinamismo e intraprendenza favoriscono il successo nei rapporti sentimentali mercurio vi apre mente e cuore verso nuovi interessi possibilità di approdare quindi su nuove spiagge buone occasioni di incontro da non tralasciare stimolate l'immaginazione e la creatività toro venere vi regala le giuste ispirazioni e spiana la via al successo aggiornatevi per poter risolvere una questione pratica qualche tensione nei rapporti con la famiglia cercate di essere generosi gemelli atmosfera spumeggiante vi sentirete sempre più attivi e pronti ad affrontare con entusiasmo gli impegni preventivate un aggiornamento che vi potrà essere utile in tutti i sensi anche in futuro il fine settimana si preannuncia comunque ricco di sorprese elettrizzanti per il cuore cancro combattete le incertezze che vi farebbero perdere tempo e preparatevi ad un positivo cambiamento di scena in amore venere vi invita a dedicarvi senza riserve a ciò che conta di più per voi ascoltate quindi fino in fondo le ragioni del cuore leone svolta planetaria favorevolissima originalità di idee e ottimo estro creativo per portare a termine con successo ciò che avete iniziato organizzate un incontro tra i vostri abituali amici e i colleghi di lavoro gioverà al buon andamento delle pubbliche relazioni attenti agli eccessi vergine buone premesse per armonizzare le vostre esigenze personali con le richieste dell'ambiente prospettive di successo per un viaggio di svago realizzate un desiderio ci sono in vista gioie per il cuore bilancia avvenire sentimentale ricco di promesse venere rischiara infatti l'orizzonte molti interessi in comune rinsaldano l'intesa con la persona amata ridimensionate una piccola noia familiare il tempo sarà vostro alleato scorpione favorita la vita sentimentale emozioni piacevoli e belle sorprese movimentano la giornata attenti a non correre troppo con la mente meglio gustarvi fino in fondo ciò che avete a portata di mano cercate anche di controllare le spese sagittario molto stimolata la vita di relazione con scambi positivi e appaganti motivi di accordo che coinvolgono soprattutto il campo sentimentale venere torna a sorridervi e mercurio vi rende sempre più attivi e dinamici in capricorno difendete l'armonia dei rapporti che per voi sono di vitale importanza qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote bene è ora di agire con determinazione moderate le spese gli alti e bassi consigliano prudenza acquario i pianeti aiutano voi e chi vi sta vicino a rimettere in discussione i vecchi atteggiamenti c'è quindi la possibilità di rilanciare e di consolidare i rapporti affettivi ed amicizia risolvete con praticità e con spirito di adattamento tutti i problemi concreti pesci un rapporto che credevate ormai superato vi coinvolge ancora tenetene conto attenzione a non correre troppo con il pensiero creandovi aspettative premature lasciate invece che le cose maturino naturalmente segni di instabilità negli affetti grazie grazie